L'ultima proposta avanzata dal Premier Gentiloni al tavolo sulle pensioni non è riuscito a ricompattare il fronte sindacale. Il documento sottoposto alle organizzazioni dei lavoratori è stato bocciato dalla CGL che l'ha definito insufficiente. All'incontro il Premier si era presentato con un pacchetto e chiedendo a CGL Cislewil di siglarlo, facendosi in cambio garante del fatto che sarà introdotto subito in Parlamento, brindandolo di fatto rispetto alle mire di modifica dei partiti. E' sul tavolo un intervento da 300 milioni per il congelamento dell'aumento dell'età di pensionamento a 67 anni. Di più il Governo non poteva fare per non mettere a rischio i conti pubblici sui quali pesa il giudizio negativo di Bruxelles. A breve dovrebbe arrivare la lettera che mette in risalto il problema del debito pubblico, oltre a manifestare un giudizio negativo sulla manovra con la richiesta, secondo alcune voci, di alcuni miliardi per aggiustare i conti pubblici. Il tutto mentre alla Corte Suprema dei Diritti Umani di Strasburgo è iniziata la prima e unica udienza sul ricorso presentato a settembre del 2013 da Silvio Berlusconi contro la decadenza del suo mandato di senatore e la sua ineleggibilità sancita in base alla legge Severino.